In tutto questo, scusatemi, mi fate vedere le partite, perché... Non l'aggiornamento sulle partite, quella di ieri. Perché cosa è successo? Che ieri, come lei ben sa, si è giocata la Coppa Italia-Atalanta-Juventus. Eravamo tutti molto timorosi, mi è andato tutto bene. E ci è venuta subito in mente l'altra partita, no? Atalanta-Valenzia, il 19 febbraio 2020, che secondo molti, molti medici anche, è stata la partita a zero, quella alla cui tutto è cominciato. E quindi ieri mi veniva in mente che forse questa qui, potremmo dire che è la partita di ritorno alla normalità? Ci siamo arrivati? Gli stati possono essere un po' il simbolo di questo? Guardi, ogni ripartenza è il simbolo, un simbolo di qualcosa. Questa partita chiude ovviamente il ciclo precedente. Non possiamo paragonare questa partita con quella dello scorso anno, quando il virus non si conosceva, è arrivato in maniera molto dura come uno tsunami. È una situazione completamente diversa, è una ripartenza grazie alla vaccinazione che prende sempre più il sopravvento sul virus. Cioè i numeri lo dimostrano, lo dimostreranno anche, spesso molto presto, il numero di decessi che progressivamente si allineerà con ciò che vediamo nel Regno Unito. Senta, silenzio.